Amici giogliesi, amici meritili, sportivi, ottifosi tutti, buonasera e ben ritrovati. Gara 9, canale Piorio F, due al giugno con 1 a 13 per scrivere una nuova pagina di storia. Ma prima della gara, un piccolo momento. Come dicevamo, atto conclusivo di una stagione fantastica, ma questa sera è tutt'altro campionato. Gara 1, finale promozione C1, nel nome dello sport, dell'amicizia, della gioia e della vittoria, grande sportività e correttezza in campo e fuori, vi presentiamo le due formazioni. Partiamo da Ceglie, di coach Camparella Massimo, con il numero 5 Roberto Mammarecchia, con il numero 7 Cristiano Santoro, con il numero 8 Alessio Curri, con il numero 9 Mario Lamede, con il numero 10 Vito Lamede, con il numero 11 Sergio Rocpino, con il numero 13 Capitano Paulino Motta, con il numero 18 Marco Romalenti, con il numero 19 Damiano Paggiano, con il numero 10 Vito Lamedesco. Signore e signori, ecco a voi la populista di coach Stefano Manfreda, con il numero 4, Niccoli Mammarecchia, con il numero 5, Niccoli Mammarecchia, con il numero 7 Alessandro, con il numero 10 Giuseppe, con il numero 11 Fabrizio, con il numero 13 Davide con il numero 15 con il numero 19 Michele con il numero 20 Riccardo con il numero 8 il capitano Daniele 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 Non è più penente così, che non servirà più niente la felicità, più niente che l'arte sia, e contenterò del vero e buon dato, soffierà nel vento un'altra di vento, e tornerà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.